Garantire la quiete notturna in tutta Venezia e non solo in alcune zone, verificare l'estensione dei plateatici dei locali, che oramai invadono anche calli e corti interne, aprire un tavolo di lavoro con i cittadini per tutelare chi si sente assediato dai 1.500 locali che oramai sorgono in tutta la città e dalla loro spesso rumorosa clientela. Sono alcune tra le richieste al Comune esposte dal Comitato Danni da Movida alla seconda commissione consigliare della Municipalità di Venezia. La cosiddetta ordinanza anti-movida del Comune di cui si chiede il ritiro è giudicata completamente insufficiente. Non c'è stato nessun confronto con la cittadinanza, il confronto è stato unico con le categorie e per cui il documento che ne esce è un documento totalmente squilibrato. Riteniamo che la salute non sia di destra, di centro, di sinistra ma sia un fatto personale totalizzante. Abbiamo evitato di andare da far la classica richiesta a qualche politico e siamo rivolti all'unico istituto che noi riteniamo assolutamente neutrale che è quello della Municipalità di Venezia. Nato dall'iniziativa di alcuni residenti che denunciano come la propria vita e il proprio riposo siano pesantemente condizionati dalla sempre più intensa vita notturna cittadina, il Comitato Danni da Movida di Venezia è cresciuto in un mese scarso da poche decine a diverse centinaia di adesioni. Peraltro in mancanza di soluzione le azioni legali non sono escluse. Al momento il dialogo col Comune a che punto è? Credo che sia un dialogo tra sordi perché ci vengono dette imputate alcune cose che non stanno in cielo e in terra in sostanza. Per esempio che noi vogliamo assolutamente fare polemica non vogliamo fare nessuna polemica vogliamo semplicemente essere ascoltati ma ascoltati in maniera seria non ascoltati in maniera pro forma.